L'AC Campobasso, la Tecno Motor Racing Team e la Molise Racing stanno ultimando i dettagli del 23esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. La gara valida come terza tappa del campionato italiano e quinta prova del campionato europeo, prevista questo fine settimana. Sabato si terranno le verifiche tecnico-sportive alla concessionaria Vitale Motor dalle 15 alle 19.30. Subito dopo sarà pubblicato l'elenco delle auto verificate e ammesse alla partenza. Domenica, il giorno della gara, alle 11 la partenza della prima macchina per la manche di ricognizione. 12.30 l'inizio della corsa che terminerà intorno alle 17.00. Sul percorso della Gildonese saranno impegnati anche i piloti delle auto storiche e moderne con la gara di regolarità. Le vetture partiranno prima della manche di ricognizione dello slalom, prima della prima manche e prima della seconda. A proposito degli organizzatori, ai nostri microfoni Martina Iacampo. Per quanto riguarda l'organizzazione del percorso ringrazio veramente di cuore tutti i ragazzi di Mascione che fanno di tutto, cioè dalla pulizia delle cunette all'estimento della gara, è veramente un lavoraccio, una faticaccia. Oltre naturalmente a tutti gli organi che ci sono dietro, che organizzano la gara sotto il punto di vista teorico, diciamo non pratico, come l'ACI di Campobasso e la Tecnomotor Racing Team. Sabato il centro di Campobasso ha ospitato Motori in Città, un evento che ha portato in piazza l'automobilismo e le tante iniziative promosse con lo slalom Città di Campobasso. Presenti anche gli alunni del liceo Manzù che hanno preso parte al progetto Arte, Ambiente e Motori. Utilizzando pneumatici da riciclo hanno creato oggetti di design. Entusiasta per il lavoro svolto dai suoi ragazzi, il preside dell'istituto. Antonio Venditti, preside del liceo artistico Manzù di Campobasso, una collaborazione con la famiglia Iacampo che nasce in che modo? Noi come apertura al territorio oramai è una cosa risaputa. Il liceo artistico ha collaborato col comune, ha partecipato a un concorso nazionale, devono andare a ritirare un premio il 19 all'Expo a Milano. Quindi apertura al territorio, sanno dove trovarci, siamo sempre disponibili. I ragazzi sono estrosi, basta dargli input e poi vanno da soli. I prossimi progetti e il prossimo futuro, la scuola ormai è quasi finita, però c'è in progetto qualcosa per il liceo? L'ultimo appuntamento è alla fiera l'ultima domenica del mese, che faranno ancora un'esposizione ai ragazzi. Poi ci aspetta il trasloco, perché la provincia ci dà la sede nuova e quindi avremo l'estate davanti per poter fare il trasloco. Novità di quest'anno, la diretta della gara sul Radio Luna Network. La radiocorsa sarà irradiata anche lungo il percorso con la telecronaca in tempo reale.